Ciao a tutti, un saluto da Aosta. Allora, sì, effettivamente sono al nord dell'Italia, nella città di Aosta, quindi un paese che ho visitato soltanto anni e anni fa in vacanza in montagna con degli amici, quindi non avevo mai avuto l'occasione di stare qui in città durante il periodo, diciamo, senza la neve. Il paese, allora, intanto ho capito che a cento hanno i valdostani, cosa che in realtà non mi ricordavo per niente da quella volta, e va bene. Un posto tranquillo, piccolino, comunque dai, insomma, la Val d'Aosta non è nota per le sue dimensioni, però, insomma, ha tutta una serie di aspetti che possono essere interessanti anche per una vita, diciamo, tranquilla, durante non il periodo invernale. Detto questo, volevo parlare oggi del fatto che con lo stipendio ho superato lo scaglione IRPEF dei 28.000 euro, quindi andrò a pagare adesso l'aliquota del 35%, cosa che invece prima era del 25%, anzi, andiamo a vedere un attimo le aliquote. Aliquote IRPEF 2023. Allora abbiamo, per l'appunto, che fino a 15.000 euro ci sono, c'è il 23%, questo che a fianco penso che sia la proposta per il 2024. Comunque abbiamo fino a 15.000 il 23%, fino a 28.000 il 25%, cosa che pagavo fino adesso. Adesso che ho superato i 28.000, a 50.000 non ci arrivo quest'anno, tanto ormai è chiaro. Comunque avrò l'aliquota del 35% e poi chi riesce a superare i 50.000 avrà l'aliquota del 43%. Quindi è palese che in Italia, come penso anche in molti altri stati, c'è la tassa sulla ricchezza, quindi più guadagni e più paghi in tasse. Infatti in Italia la maggior parte dei contributi vengono pagati da chi, adesso lasciamo stare i 50.000 euro che si riescono potenzialmente a prendere, però se pensiamo a quelli molto molto importanti, cioè con un reddito molto elevato, quindi 1, 2, 3, 5, 6, 10 milioni, cose così insomma, quindi parliamo di cifre 500, 1000 volte tanto, fanno un volume di tasse pagate molto elevato. Ecco, cosa che invece l'operaio che si fa sfruttare in fabbrica prendendo 800 euro al mese, anche se sono tanti, comunque ci vogliono centinaia e centinaia di persone per fare il valore di un'unica persona che guadagna molto di più. Però vabbè, questo qui è semplicemente una legge dei numeri, non c'entra niente con il discorso. Quindi, questo, faccio vedere, è uno screenshot della mia busta paga, l'ultima, soltanto la parte inerente all'IRPEF, quindi, allora, intanto imponibile, sono a 33.040 euro, no? Quindi, questo qui è quello che siamo arrivati, insomma, adesso siamo a ottobre, quindi fino a settembre, quindi rimasto ottobre, novembre e dicembre, altri tre mesi. Bene, contributi versati, questi qui sono solo una parte, perché poi sono tutti quanti quelli che versa l'azienda, quindi in realtà se ne vedono pochi. E quindi, vabbè, linea è sempre uguale. Andiamo sull'IRPEF, vedete, ho superato i 28.000 euro, quindi sono a 28.644 euro, vuol dire che, dal prossimo mese, il mio stipendio sarà più basso rispetto a quello che avevo prima, perché, diciamo che, superati i 28.000, oltre a quello si verrà tassati al 35%, quindi non anche quello precedente, ma soltanto quello successivo. Bene, quindi, dal prossimo mese fino a dicembre, avrò uno stipendio che sarà sicuramente più basso di quello che ho preso fino adesso, e questo mi impedirà comunque di poter finanziare, diciamo, i miei risparmi, cioè, aumentare i miei risparmi, come ho fatto fino adesso. Tra l'altro, già che ottobre è un mese, molto magro, perché ho già fatto vedere anche nei miei investimenti, che si è speso molto, un po' per vari motivi, è stato un mese di spese, e quindi già ottobre è stato scarno. Quindi avremo anche, sul novembre e dicembre, probabilmente, un abbattimento degli investimenti, e quindi mi stavo valutando se riusciva ad arrivare ai 60.000 euro, oppure no. Vabbè, se ci riesco bene, se non ci riesco, pazza, insomma. Ora, su sta cosa dei 33.000 euro, invece, vorrei fare un appunto, perché mi è capitato di vedere intanto un video di Marcello Ascani dove parlava, o Ascani, o Ascani, vabbè, comunque è quello famoso, che parlava con i milanesi e chiedeva quanto guadagnavano i milanesi. E sono rimasto molto stupito nel notare che, in realtà, Milano non si guadagna di più che da altre parti d'Italia, insomma, salvo zone molto depresse, eccetera. Però, tendenzialmente, gli stipendi sono normalissimi. 1.300, 1.400, 1.500, 1.700, cioè, non sono stipendi favolosi per una città estremamente cara come quella di Milano. Quindi mi aspettavo, insomma, un tenor di vita, anche se fosse paritario, comunque con uno stipendio medio più elevato. Mentre invece è assolutamente in linea, secondo me, con quello che puoi prendere in moltissimi altri paesi d'Italia, senza essere martoriato dalle spese che può avere una città importante come Milano. Oltre a quello, dopo ho visto che ci sono stati tantissimi altri canali che hanno fatto video simili, quindi chiedendo, ormai inizierei quasi a dire a rompere le scatole i milanesi, a fargli capire, insomma, che guadagnano poco per la città dove vivono. E quindi anche lì mi viene sempre un po' quella cosa del perché bisogna andare a Milano per guadagnare quanto potresti guadagnare da altre parti d'Italia. Tanto se ti sei spostato, soprattutto parlo delle persone del sud, perché tendenzialmente sono persone del sud che si spostano al nord per trovare situazioni economiche migliori e questo non gli si può dire niente. In fin dei conti, se la necessità lo richiede, si fa anche questo spostamento. Però spostarsi in una città così pesante da un punto di vista di spesa per poi prendere uno stipendio che è normale, senza potrovare da qualsiasi altra città d'Italia, mi chiedo perché bisogna andare lì. E quindi questa è un po' la riflessione. Tra l'altro, guardando sempre questa cosa degli stipendi di Milano, è arrivato anche un ragazzo che lui lavora in Danimarca, mi sembra, sì, e fa l'ingegnere. E parlava degli stipendi che sono molto più alti, lavora poche ore, insomma tutta una serie di cose. E insomma lui dice che mi piacerebbe tornare in Italia, però effettivamente la condizione, cioè dovrei far peggiorare la mia condizione in maniera forte e non vedo il motivo di farlo, perché alla fine qui sto bene e non lo dovrei fare. Ok, ci sta. E da lì mi parte tutto un altro discorso, nel senso che perché in Italia si guadagna così poco? Nel senso cos'è che abbiamo di diverso, no? Rispetto ad altre nazioni che facciamo così fatica a prendere degli stipendi più in linea con altre nazioni? Inizialmente pensavo per le tasse, no? Perché diciamo che l'Italia è nota anche per il livello di tassazione che ha. Però si scopre, guardando un po' nel fondo, nel fondo che se vai tipo in Francia o in Germania non è che sono molto più gentili con le tasse, cioè non è che hai una pressione fiscale che è molto più bassa. Sono sempre belli garniti sul fatto di prelevare al lavoro, no? E quindi diciamo che si esclude un po' questa parte, quindi della tassazione. Cioè è una parte sicuramente importante, ma non è l'unica. Perché obiettivamente sono questi paesi dove lo stipendio meglio, diciamo, è molto facile prendere molto di più. Poi dici costa di più? Va bene, ok. Però siamo sempre lì, c'è di più e di più. Nel senso che, come ti puoi spostare da Milano, venire in una città dove costa meno, lì vicino, perché molta gente, tipo quel ragazzo lì, lui bypassa un po' sta cosa, però lui per andare al lavoro prende il treno. Quindi vuol dire che è in una città che si deve spostare col treno, non è uno spazio che va in bicicletta, quindi non sei in centro. Lui si sposta fuori, divide l'affitto, fa tutta una serie di conteggi, dove dice che risparmia molto rispetto allo stipendio che prende, fa un confronto con i prezzi di Milano e fa vedere, insomma, quanto sarebbe il risparmio rispetto a Milano, eccetera. Però secondo me fa dei ragionamenti che sono in parte corretti, in parte invece sono un po' forzati per agevolare, insomma, la sua teoria del fatto che si sta bene dove sta, che su quello non si discute. e quindi cos'altro c'era che poteva essere di interesse sul perché si guadagna così poco? Allora hanno iniziato a guardare, a guardare, a guardare. Diciamo che ci sono un po' di fattori che sono da prendere in considerazione. Intanto, ritornando sempre sul discorso di Milano, il RAL da 30-35 mila euro sono quelli che si sentono realizzati e quindi va bene, quindi guadagnano quanto me che io sto a Rimini, però stanno a Milano, io penso di stare meglio a Rimini piuttosto che a Milano per diversi motivi, tra le quali il mare. è vero che la difficoltà che ho io, per esempio, nel mio contesto è il fatto che non riesco a comprare la casa, soprattutto in questo momento dove i tassi sono molto alti, quindi sarebbe proprio un po' da svalvolati pensare di entrare adesso nel comprare la casa, ammesso che non si è costretti, chiaramente io parlo sempre sul fatto che non bisogna essere costretti a fare una cosa, altrimenti per libera scelta diciamo che posso evitare di fare questo acquisto in questo momento, ma so già che è un acquisto che mi costerà tantissimo perché è una zona turistica, quindi la gente si compra le seconde case, non ci sono casi in affitto a Rimini, se vai su e giù, insomma, comunque è molto difficile trovare casi in affitto, anzi, non ci sono, perché sono solo per l'estate, perché chiaramente affittare in estate prendi gli stessi soldi o anche di più che affittare a una persona tutto l'anno, quelli ti pagano prima, stanno lì poco e poi se ne vanno, quindi è l'edificio che insomma fa più fatica a logorarsi per questo, e quindi le case in affitto non te le danno, di conseguenza sono costretto a comprarla praticamente, solo che a comprarla, perché sono viziato, quindi vorrei stare sempre in una zona vicino al mare, mi costa tantissimo, cosa che se mi spostassi più indietro, di non tantissimi chilometri, nel senso non che dovrei prendere il treno, ma che anziché andare in bicicletta al mare, dovrei prendere il motorino, per intendersi, o la macchina, ecco, questo mi farebbe una differenza di prezzo, ma tipo anche quasi della metà, se vogliamo, però insomma questa piccola differenza, sto cercando di evitarla, quindi sto guardando anche le este giudiziarie, insomma per vedere se si riesce a scappare fuori con qualcosa di interessante, questo solo per dire che stare a Milano per guadagnare quanto prendo io qui a Rimini, insomma non mi interessa, preferisco stare a Rimini, probabilmente se abitassi in un'altra città costiera, come potrebbe essere anche più nelle Marche, o da un'altra parte, insomma anche in Toscana, o comunque sul mare, preferirei sempre di più stare lì, piuttosto che stare in una città come quella di Milano, detto questo, ma questa è solo una mia riflessione personale, per quanto riguarda invece il discorso degli stipendi, vorrei ritornare su un po', che i punti sono sempre più o meno quelli, alla fine ho trovato, allora un motivo principale, sul fatto che si guarda la media, degli stipendi che si prendono in Italia, ci sono tantissime persone che guadagnano veramente pochissimo, e per pochissimo si intende, dove ho caricato anche un video di una ragazza che ha rifiutato un lavoro, che gli davano veramente quattro spicci, questi che gli danno, ti danno 75 euro la settimana, una cosa, adesso a parte che è il discorso del stipendio settimanale, ma ti danno veramente quattro soldi, quelli lì purtroppo c'è gente che lo fa, no? Prende, accetta di prendere questi soldi, e quindi accettandolo, tu dai il consenso di dire, ok, allora lo posso fare, e quindi prova addirittura ad abbassarlo ancora, dico, quando è che arriva il punto in cui, effettivamente non si si riesce più, e tocca per forza ritornare su, quindi il fatto di accettare un stipendio sempre più basso, è agevole al fatto di, di un'impresa, dice perché ti devo pagare di più se mi accetti una cifra più bassa, ti pago di meno, ne posso prendere due, tre, con la stessa cifra di uno normale, eccetera, e quindi si fa un po' questo ragionamento, che da un punto di vista economico, è normalissimo, tanto chi fa impresa, non fa del volontariato, cioè io, io nel senso, io in impresa, devo sopravvivere, e per sopravvivere devo spendere il meno possibile, guadagnare il più possibile, questo qui è l'ABC insomma, e se riesco a pagare meno l'operaio, riesco a guadagnare di più, quindi riesco a superare i momenti di crisi, riesco a fare tutte queste cose qui, e questo è uno dei motivi per cui, comunque lo stipendio tende a rimanere basso, un altro motivo, sempre su, rimanendo su questo discorso qui, è la produttività delle imprese, in Italia abbiamo una svalangata di micro imprese, piccole imprese, quindi l'artigianetto locale, quindi quello che l'idraulico, piuttosto che l'elettricista, piuttosto che tutte quante le varie robine, che fanno un po' di nero, un po' così, guadagnano poco, non riescono a ottimizzare le loro spese, perché quello che deve da solo, deve gestire le telefonate, chattare col cliente, per poi andare a fare le operazioni, chiamare, prendere le cose, i materiali, per fare le manutenzioni, ovviamente non è produttivo, perché un'ora del suo lavoro, se facesse solo un determinato settore, sarebbe molto più produttivo, che fargliele fare tanti, e quindi le aziende più grosse, che riescono a vincolare, nel senso che prende un gruppo di persone, che fa solo una cosa, una ne fa solo un'altra, una ne fa solo un'altra, ovviamente diventa un'economia di scala, che migliora fortemente la produttività, e quindi tendenzialmente, diciamo che in Italia, abbiamo tantissime aziende piccolissime, il barettino, cioè sempre il barettino, che chi gestisce il bar, deve stare lì, fare gli ordini, incontro la parola del commercialista, eccetera, ovviamente ha una produttività molto bassa, quindi diciamo che in Italia, probabilmente anche una forza questa, perché se tu riesci a essere più produttivo, ti puoi permettere anche di avere, in realtà personale, a basso costo, perché la gente è abituata a guadagnare poco, e quindi puoi beccare, insomma, degli stipendi a basso costo, bene, un altro aspetto, sempre inerente a questo, è la bassa concorrenza, in Italia c'è poca concorrenza, e quindi essendoci poca concorrenza, si possono, allora intanto hanno il problema sempre della produttività, che comunque non sono dei gioielli, ecco, di produzione, però essendo in pochi, hanno un forte potere contrattuale, con chi si propone per lavorare per loro, perché per la serie, se non viene da me, vai da un'altra parte, l'altra parte non c'è, e quindi ti posso permettermi di abbattere, alla forza, cioè in senso, quello che ti posso chiedere, sono i contratti nazionali del lavoro, che per fortuna, tendono un pochino sostenuta sta cosa, per quanto siano bassi, però te la tengono un po' sostenuta, e poi ci sono quelli invece, che accettano sempre stipendi da fame, che non, secondo me, puoi anche pensare di farlo, giusto proprio per dire, sono alla canna del gas, meglio di così non posso fare, e tutto quanto, però insomma, ci sarebbe tanto, tanto da lavorare, e quindi, un po' la riflessione è questa, che in Italia le cose, secondo me, non vanno male, non è il problema che le cose vanno male, e che noi le stiamo gestendo molto male, perché le potenzialità, come territorio, noi le abbiamo tutte, un po' per la zona geografica, c'è l'Italia, in mezzo al Mediterraneo, siamo sul confine con l'Africa, potremmo fare con, cioè, potremmo fare tante cose, su queste cose qui, tant'è che effettivamente, se ci pensi, non per parlare bene di loro, però, purtroppo, tocca prendere atto, che tipo, la malavita, ste cose, ste organizzazioni, se le fa, e infatti, sono aziende, estremamente produttive, fanno un sacco di soldi, vuoi che non pagano le tasse, ma anche se pagassero le tasse, sarebbero dei colossi, legalizzati, che quindi, potrebbero fare, altre cose, ancora più la luce del sole, ancora meglio, no? e quindi, cosa che invece, noi non riusciamo a fare, in più abbiamo quella macchina burocratica, italiana, che effettivamente, è un bel problema, perché, banalmente, cioè, se tu apri una tua azienda, no? Anche come artigiano, per pagare le tasse, è sempre un po' così, nel senso che, se ci fosse un'applicazione, che tu guardi, Dici, ok, ogni volta che, mandi una fattura elettronica, già, ti viene scritto, o anche il mese dopo, non lo so, comunque, con un certo ritardo, però, sensato, quanto devi pagare di tasse, perché, se hai fatturato tot, devi pagare tot, semplicissimo, no? E tutti lo saprebbero prima, e quindi, si potrebbero organizzare, insomma, sarebbe molto meglio, per non c'erciare una condizione, di sta cosa migliore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, mi viene da dire, che fare imprese in Italia, per chi riesce ad essere produttivo, riesce a organizzarsi, in un certo modo, è, un paese, che gli dà, molte possibilità, perché gli fa pagare meno le persone, quindi questo è, finché le persone, non capiranno, che devono prendere di più, oppure pretendere di più, continueranno ad essersi, queste condizioni, e forse anche, anche peggiori, quindi continueranno ad abbassare, gli stipendi, ma questo non è un problema, dell'azienda, che non vuole pagare di più, perché l'azienda, non ti vuole pagare di più, l'azienda tedesca, non ti vuole pagare di più, ti paga di più, perché gli conviene, no? Perché ha tutta una serie, di condizioni, che gli consentono di farlo, e gli conviene, perché altrimenti, se potesse pagarti, se l'azienda tedesca, potesse pagare al tedesco, la metà di un italiano, lo farebbe, non è che non lo farebbe, banalmente, e quindi insomma, questo è che, secondo me, è un po' la riflessione, che si può fare, quindi, da questo punto di vista, io mi sento molto più, incentivato, anche a fare impresa, in realtà in Italia, perché ci sono, posti, dove, zone depresse, che ti danno, tutta una serie, di agevolazioni fiscali, anche per i capannoni, per queste cose qui, che sono anche zone interessanti, dove si può fare impresa, smettiamola di guardare Milano, come se fosse la panacea, no, perché se non sei a Milano, non fai impresa, sta cosa è assolutamente falsa, per quanto mi riguarda, poi ci saranno case eccezionali, la moda, la finanza, tutto quello che vuoi, che bisogna stare a piazza affari, se non sei in quella piazza, dove c'è quell'edificio, sembra, che non puoi fare niente, e va bene, però per tutto il resto, insomma, secondo me, abbiamo tanto, tanto da poter fare, cioè nel senso, sono molto fiducioso, che si possa fare molto meglio, di quello che stiamo facendo, con questo, vi saluto, ciao, al prossimo video.